Quattro militari dell'esercito ucraino muoiono durante la sperimentazione del vaccino COVID19. Traduzione parziale dell'articolo dall'inglese. Lungshansk, 17 luglio. Quattro membri del servizio ucraino sono morti dopo la sperimentazione del vaccino COVID19, addetto Alexander Mazenking, addetto stampa della Milizia Popolare di LPR. Si tratta di un totale di 15 volontari che hanno sperimentato il vaccino ai farmaci prodotti dai verologi americani nella regione di Kharkov. Otto dei volontari sono stati trasferiti velocemente in unità di terapia intensiva e tre sono stati sottoposti a ventilazione. L'unità di cura intensiva non poteva trattarli adeguatamente perché i componenti del vaccino non erano conosciuti. Di conseguenza, cinque pazienti, quattro di quali membri del servizio militare ucraino, sono morti. Il Ministero della Sanità è andato in allerta ed ha introdotto misure di blocco che cambiano le modalità di funzionamento degli enti governativi, società industriali, organizzazioni e trasporti. La maggior parte delle restrizioni è stata ormai allentata con il miglioramento della situazione epidemiologica. Lo stesso Ministero ha affermato che la situazione del corona Raivus nella Repubblica Ucraina si era completamente stabilizzata ed era sotto controllo. Ora per i meno attenti che seguono questo canale, li invito a documentarsi sui due video relativi alla diffusione dell'influenza spagnola che trovate nella descrizione di questo video. L'influenza, che ha ammietuto milioni di morti, è iniziata esattamente nello stesso modo.